ciao a tutti e bentornati sul canale l'anima dei libri farò questo video molto molto corto sono in modalità casa come potete vedere maglietta molto larga pantaloncini proprio il più comodo possibile perché stiamo tutti a casa a causa del coronavirus questo video doveva uscire dopo perché avevo già fatto un blog però ormai ci sono state delle novità purtroppo quindi ho preferito far prima questo video per mandare un pensiero a tutti voi a dirvi che noi del canale l'anima dei libri il team vi è molto molto vicino poi io personalmente vi saluto anche mi prendo la libertà di salutarvi anche da parte delle ragazze e io personalmente mi sono molto molto vicino perché so come ci si sente in questi momenti questi momenti dove ci si sta a casa adesso c'è la quarantena che lui si sta a casa dove non si vede nessuno e ci si sente un po isolati per quanto la tecnologia può aiutare le persone sia per vederci ma anche per lavoro con lo smart working non è come star con le persone quindi questa è una cosa che io sento tutti i giorni e mi dispiace che la state passa che la strada passando anche voi perché non è bella proprio per questo stavo pensando lo dirò anche le ragazze di fare una live sul canale non so se con la mia faccia versione barbone o soltanto mettendovi musica per farvi compagnia non lo so questo non parlerò con loro se loro sono anche a disposizione se vogliono farla anche loro bene poi ci sarà il video blog per quanto riguarda il canale ci sarà tempo per quello ormai le priorità sono altre l'unica cosa che avevo pensato di fare è consigliare dei libri un libro più che altro ho detto o magari una categoria però che riguardano appunto i virus e quando ce n'è uno nuovo c'è gente che si spaventa insomma bisogna stare molto tranquilli non perdere la calma e informarsi e quindi ho pensato ho fatto una varie varie ricerche non l'ho neanche stampato sta qui come libro da consigliarvi è virus la grande sfida di roberto burioni è dal coronavirus alla peste come la scienza può salvare la scienza può salvare l'umanità voi ricche vi leggo in questo libro roberto burione attinge alla sua lunga esperienza di medico ricercatore per mostrare la natura il funzionamento dei virus il loro passaggio dagli animali all'uomo l'evoluzione delle nostre conoscenze scientifiche gli effetti devastanti dell'epidemia nella storia dell'umanità e le battaglie combattute nell'ultimo secolo contro i nostri nemici più piccoli e più feroci questo è l'unico libro che mi sento di consigliarvi poi fate le vostre ricerche perché la scelta comunque è molto vasta quindi non sapevo quale prendere o quali prendere quindi ho detto ne consiglio uno poi voi fate le le vostre ricerche e scegliete il libro più adatto a voi per questo video è tutto da luca da tutto il team dell'anima dei libri un bacione un abbraccio ragazzi ciao 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 ciao